Ma che roba! Ma quanti ai teri saranno a sta tempo? È tutto vero quello che si dice in giro del fondo per la Aschia? Partiamo da un minimo di 500, eh? 500 mila? Eh, sì. Ma non si può ristrutturare? Senti, amore, io il regalo lo faccio volentieri a te. Sei la cosa più bella che mi è capitata. Sono incinta. I soldi, ben umani ci sono. Non so se ce la faccio o non vederti più. Ma chi ha detto che non dobbiamo più vederci? Io non penso che se si venisse a sapere, guidando il tuo fuoristrada hai messo sotto un povero Cristo? Che beguai! Non sono stato io, come glielo devo dire? Ma cosa ti ricorda? Capitano, cosa ha conspirato questi imbecilli? Finita qualsiasi! Quando le cose diventano pericolose e sparisci nel tuo saltero di lusso sulla coppia. Abbiamo messi 700.000 sul fondo di guerra. Allora, chi l'ha portata sta venerdata macchina? Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. Abbiamo vinto. Ci sei anche tu, amore.